il sapore stesso della terra ma anche il tempo che passa il vino è una materia in continuo di venire per me a casa da bambina ricordo sempre la tavola imbandita dove non mancava mai la bottiglia di vino sopra ho cominciato insegnando molto giovane a questi ragazzi che cos'era che cos'era il vino però quello che mi mancava era tornare a toccare con mano la terra vivere la stagionalità della vite e produrre il vino di nuovo sentire di nuovo il profumo del vino in cantina e vivere l'esperienza adrenalinica della vendemmia cominciato in fresco balli e sono tutt'oggi qui c'è nessun ostacolo secondo me per per una donna per potersi affermare per potersi esprimere al meglio mi piace il fatto di poter raccontare questo anche tramite il progetto marcella che ci unisce fortemente e fa esprimere a ognuno la propria diversità e la propria unicità ogni bicchiere per me racconta una storia vino è un racconto di un luogo e questo è quello che mi ha fatto innamorare di questa professione scelta ganso l'immagine della assolazione la città innanzitamente rilassato all'inizio 65 Grazie.